Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi 6 luglio. Vediamo quali sono i temi di giornata fondamentali. Tanto si parte ovviamente dalla questione come al solito dell'immigrazione. Ieri sembrava una grande allerta per i panzer austriaci al confine. Oggi abbiamo visto che non ci saranno i panzer austriaci al confine. Anche se libero dice avrebbero fatto bene, diciamo la mettiamola così. Cioè sostanzialmente ci si deve chiudere, non si può aprire all'immigrazione come fa l'Italia. Bill Gates, e questo oggi è riportato in grande spolvero dal giornale, ma anche da altri giornali hanno le foto in prima pagina come il Corriere della Sera. Bill Gates, il fondatore di Microsoft, che è molto impegnato in Africa con le sue attività volontaristiche, sta spendendo un sacco dei suoi soldi e il suo patrimonio per aiutare quei paesi lì in loco, dice una cosa abbastanza banale, e cioè che mostrarsi generosi nei confronti degli africani, cioè accogliendoli tutti in Europa, induce a maggiori sbarchi. E l'Europa non può, e l'Occidente non può, essere invaso dagli africani. Questo è quello che dice Bill Gates. Allora io mi chiedo, ma queste cose qua non le diceva anche Donald Trump in America riguardo alla chiusura delle sue frontiere? Cioè non è la tesi trumpista per cui non si può, bisogna essere rigorosi e prendere soltanto le persone che servono e non farsi appunto, tra virgolette, invadere. Oggi Bill Gates forse ha cambiato idea, ben venga, ma il vero tema è che Bill Gates oggi io lo iscriverei al partito di Trump, che non so se è quello repubblicano, probabilmente no, però oggi Bill Gates e Trump dicono la stessa identica cosa, anche se noi non ce ne accorgiamo. Oggi il Corriere della Sera fa quello che si può considerare un bellissimo colpo giornalistico dal punto di vista istituzionale, perché pensate un po' voi che intervista la Merkel, ma vi dico subito, non leggete quell'intervista, cioè chapeau al giornale che viene considerato un grande interlocutore della Merkel, però per voi che siete lettori dei quotidiani, vi dico che è totalmente inutile leggere il giornale. L'ho fatto io per voi, motivo per il quale faccio questa zuppa ogni mattina, questa zuppa di porro. Con Macron discuteremo molti temi, quindi c'è bisogno di un'intervista per sapere che il presidente e il cancelliere tedesco discuterà molti temi con il presidente della Repubblica Francese appena eletto. Interessante. Ho molto a cuore la coesistenza pacifica con i tanti immigrati turchi che ci sono in Turchia. Beh, la notizia sarebbe stata al contrario, che non avesse a cuore la coesistenza pacifica, non so, che avesse a cuore la Merkel il fatto che turchi e tedeschi si menassero. Questo potrebbe essere stata una notizia, potrebbe essere stata una notizia quella di fare un accenno a Colonia, cioè quando ci fu quel capodanno in cui immigrati e clandestini cercarono di fare uno stupro di massa. Quella era una notizia, ma questa non è una notizia. Andiamo avanti. Oggi il mondo è multipolare. Ecco, anche questa non è una notizia. Ce ne siamo già resi conto che il mondo è multipolare, che c'è la Cina, che c'è l'India, che c'è l'America e che vanno un po' per fatti loro. E ancora critica Trump per il mancato accordo sul clima. Questi, i poveracci del Corriere della Sera, non hanno potuto fare almeno che titolare su questo ovviamente un'intervista del tutto inutile che vi ho sintetizzato in un minuto. Il fatto che la Merkel ce l'avesse con Trump sul clima è una cosa che già sapevamo e che abbondantemente conosciamo. Meno conosciuta è la posizione del governo italiano sul trattato di apertura dei mercati con il Canada, CETA. Oggi, se siete interessati, leggete Calenda che vi spiega come tutte le ipocrisie, le balle che sono state raccontate contro l'apertura dei mercati in realtà siano false e come questo sia molto utile all'Italia. Sapete che io sono un libero scambista inteso dal punto di vista degli scambi economici, quindi in questo molto a poco trampiano, convincente oggi quello che scrive Calenda in una lettera al direttore del Corriere della Sera. Bene, ci sono due cose invece gravissime. La prima è il nuovo reato di tortura che è una minchiata, però quando vai a leggere i giornali di centrodestra che riprendono le dichiarazioni dei politici di centrodestra c'è soltanto, ci sono solo frasi apodittiche, tipo sarà un disastro per la polizia, è uno sfregio per la polizia, è un problema per la polizia. Forse in sole due righe del libero, del pezzo di Paone, pagina, insomma la trentesima riga del pezzo di libero, si spiega. Questo è il punto, dovete spiegarlo, porca puttana, perché questo reato è una schifezza così come è stato fatto per la polizia, non per tanti motivi. La tortura è sbagliata, c'è una convenzione europea, non ci sono cavoli che la tortura sia una minchiata e che deve essere punita pesantemente. Il punto è un altro e lo spiega un sindacato di polizia in due righe in un pezzo oggi. E cioè che viene introdotta la possibilità della cosiddetta tortura psicologica, secondo la quale, dicono alcuni sindacati di polizia, se uno dice, mo ti arresto, mo ti do uno schiaffone, mo ti metto in gattabuia, cose da film degli anni Ottanta, bene, anche quello potrebbe configurarsi come tortura psicologica e mettere nei casini la polizia. Spiegatelo, porca puttana! Invece noi che facciamo? Intervistiamo Zagrebeschi che da sinistra critica il reato di tortura perché dice che è una legge mal fatta. E poi, cioè, non abbiamo avuto la possibilità di spiegare bene questa minchiata sui giornali di centrodestra. Secondo me questo è un errore, posto che è una legge allucinante, come tutte le ultime leggi che sta facendo questo Parlamento che non dovrebbe fare più leggi, dovrebbe fermarlo, fermatelo! aveva ragione Renzi, fa una legge cagata dietro l'altra, fa il reato di tortura, farà lo Iussoli e il terza legge allucinante si voterà probabilmente oggi, c'è un pezzo di Leana Milella che tira avanti Cantone perché è la possibilità di sequestrare i beni preventivamente a ipotesi di persone che stanno commettendo corruzione. Ve la faccio breve, nei prossimi dieci anni avremo il pieno di gente che verrà in fase di indagini, in fase di indagini senza neanche una sentenza, essere considerata mafiosa perché gli si dice che ha avuto un atteggiamento corruttivo, che non è stato ancora provato, che può essere magari aver usato, come spiega qualcuno oggi su un giornale, una macchina di servizio quando non doveva usarla per portare sua figlia a scuola. È giusto farlo? No, non è giusto farlo. Ma nell'indagine per quella roba lì probabilmente gli sequestrano tutto il patrimonio. Chi vorrà fare l'amministratore locale? Nessuno, zero, zero, nessuno vorrà fare l'amministratore locale. Ma noi facciamo le grandi leggi anticorruzioni, i corrotti come i mafiosi. Complimenti. Bel titolo che potete dare ai vostri lettori di merda che non capiscono che prima o poi in galera ci fideranno anche loro. La sete di giustizia, di merda, di giustizialisti che hanno gli italiani, se lo meritano, si facessero gestire da disoccupati che non faranno nulla nella vita e che mai avrebbero fatto nulla. Questo codice è una schifezza. Oggi ovviamente l'Aliana Milella lo scrive perché sente Cantone che pensa la stessa cosa, lo scrive su Repubblica. Ovviamente distinguendo Cantone subito le prime dieci righe perché lo scrive l'Aliana Milella dall'avvocato Berlusconi e senatore Ghedini che pensa la stessa identica cosa, ma gliene incolse perché disse, vedete, anche Cantone la pensa come me Ghedini. Ghedini ovviamente si schifa. Ah, io no, figuratevi Ghedini. Io di quella parte là non sono. Non ti preoccupare Cantone, l'importante è che questa legge di merda non passi. In realtà passerà perché il ministro della giustizia si è filato zero, mentre invece Ghedini non va bene, ma il ministro della giustizia, che è quello che tanto piace a Cantone, si è filato zero il parere di Cantone e di tanti altri magistrati che considerano questa legge assurda. Vi ho parlato di queste robe qua. La Volvo, apertura del Daily Mail, apertura del Times, e c'è nelle pagine economiche dei giornali, la Volvo diventa solo elettrica nel 2019. È una rivoluzione, la prima grande casa automobilistica svedese, direzionista cinese, che deciderà di non fare più macchine a combustione interna. Appassionato a queste cose, ovviamente ve la cito. Ultime due cose, il fatto che è gnocola. Sgominata la fatto connexion. Il fatto che vuole che tutti noi siamo perquisiti, che tutti vengono messe le manette, che ci siano i giudici che decidono la nostra vita. Il fatto giustizialista, se gli fanno una perquisizione a casa sua, è gnocola, sgominata la fatto connexion. Cioè loro non vogliono che si faccia a se stessi quello che loro augurano all'universo mondo di presunti criminali, come lo sono loro, esattamente come lo sono loro, presunti criminali. Nel senso che io sono convinto che siano innocenti, come sono convinto che siano innocenti tante persone a cui per esempio toglieranno il patrimonio, perché il fatto considera sacrosanta questa norma sulle sequestri preventivi. Allucinante! Il piagnucolio del fatto quotidiano. Posto che io sono d'accordo con loro, non ci si può permettere di fare tutte queste perquisizioni, pensare di trattarci tutti come dei criminali, ma sono loro stessi che hanno creato questo clima. Quindi di che piangono? Di loro stessi e del loro clima che hanno creato? Ultima cosa, Serra, nella sua incredibile rubrica, incredibile non perché sia brutta, ma perché posta sopra la testata, unico giornale al mondo, che è una rubrica quotidiana posta sopra la testata del quotidiano, bene, nella sua testata ci spiega perché la corazzata Potionchi non è una cagata pazzesca. Villaggio lo poteva dire che era una cagata pazzesca perché fuori dal contesto era satira, ma non ci si permetta di dire che quella era una cagata pazzesca. Per me era una cagata pazzesca in satira, fuori satira, ma siccome Villaggio sta simpatico a Serra, gli perdona che ha detto di questa affermazione. Cioè Serra fa proprio parte di quell'elite intellettuale che invece Villaggio voleva prendere più il culo, cioè quelli a cui piace la corazzata Potionchi. Ciao ragazzi!